Bucinese beffata 3 a 1 in casa dalla Senna Lunghese oltre forse ai propri meriti ma gli errori sottoporta nel primo tempo sono stati decisivi nell'equilibrio della gara Bucinese in campo con diverse assenze ma Prosperi e Gazziano, elementi per il centrocampo molto utili, sono in panchina Parte subito forte la squadra locale, all'ottavo minuto Sacconi entra in area palle al piede il desto ad incrociare, viene deviato e va in calcio d'angolo Al diciottesimo il primo episodio decisivo, calcio di rigore per la Bucinese per l'atterranetto di Pavani aperuta sul dischetto parata di Tiezi Un minuto dopo la Senna Lunghese punisce il pubblico locale Montagnoli tira rispitto ai limiti dell'area, De Luca è veloce e beffa tutti, bonecchi compreso Sacconi al ventiquattresimo è imbeccato solo in area di rigore, controlla ma manda fuori incredibilmente Al trentatresimo cross dalla sinistra respinto, Bruni da fuori, palla a lato Al quarantacinquesimo calcio di rigore anche per la Senna Lunghese, rigore per fallo su Montagnoli il quale sul dischetto non ha problemi a spiazzare bonecchi, si va in riposo dopo tre minuti di recupero Nella ripresa la Senna Lunghese si fa più aggressiva e concede molto meno alla squadra locale Al cinquantonesimo De Luca scarta due uomini e tira, la palla sfiora il palo Al sessantonesimo Gazziano, appena entrato, regala un sussulto ai suoi Una calcio di punizione non è toccato da nessuno in area di rigore e la palla finisce in rete La Bucinese potrebbe ora cercare di recuperare Al settantaseiesimo Babacar, appena entrato, scatta su un lancio, posizione regolare Il suo tiro al volo lambisce la traversa Ma all'ottantaduesimo la Senna Lunghese chiude i conti Un lancio ai becca Montagnoli, buon controllo, entra in area e fulmina Bonechi Cinque minuti di recupero non bastano alla Bucinese per entrare in partita Una sconfitta che alla luce degli altri risultati complica non poco la lotta per la salvezza Un lancio ai becca